Sulla borsa davanti. Piano, Revisano Luciano, perdono, si dà una mano nell'organizzare questa bellissima manifestazione e per tutto quello che hanno fatto per il gruppo sportivo San Piano. Ah, intanto ti ricordo che adesso ci fanno circa 20 km pianizzanti. Un bel tempo, sole, tutto bene, bello, bello, bello. Sì, no, 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 no. Oh, 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 oh. Dai, dai, bravi bravi Stabilito su questa competizione con un traguardo qui a San Giovanni è di 45 minuti esatti Quindi vedremo che oggi calza cosa si riuscirà a fare 45 minuti, il tempo migliore su questa competizione Stabilito da Magli, ecco che ci viene segnalato l'arrivo Ecco tutto solitario, un bel applauso per calza che a calza alzate arriva Tutto solitario qui a San Giovanni Bravo, che qualche anno fa corso anche con il gruppo del condivio Magadini Rico Ecco che arriva ancora un corridore in questo momento Transita con il numero 34 Ecco Ecco papà Numero uno, perfetti Grazie 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 Grazie